stiamo arrivando a terra dura trazione 2 carare siamo alla chiesa faccio vedere il campanile con l'orologio sono le due e mezza vedete che antica che abbiamo il sole contro faccio vedere davanti della chiesa vediamo se andiamo a coprire il sole davanti della chiesa vedete questa chiesa meravigliosa vi mando un abbraccio e un saluto per tutti voi amici appassionati che mi seguite con passione tutti voi amici super speciali siete numero uno con tutte le vostre famiglie meravigliose con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere così saluto tutti anche quello che anche quelli che mi dimentico adesso cito dei nomi importanti che mi seguono spesso parto da francesco marchiori da verona un amico una persona un uomo super speciale numero uno con con tutta la tua famiglia meravigliosa francesco marchiori da verona con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi in ogni mia ripresa sei davvero fantastico grazie grazie ancora di tutto sei un grande francesco marchiori da verona dalla chiesa di terra dura frazione dei due carare adesso saluto davis con salvan d'alessandria un amico una persona un uomo super speciale numero uno con la passione della bici da corse nel sangue come me spero che stai bene spero che ti fai qualche giretto con tutta la tua famiglia meravigliosa davis con salvan d'alessandria con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche sempre sei fantastico numero uno grazie di tutto davis è un grande adesso saluto durva tavarez pensate da san paolo del brasile un amico una persona super speciale numero uno con tutto il mio cuore con tutta la tua famiglia meravigliosa durva tavare da san paolo del brasile un grande grazie di esistere e di seguirmi in ogni mia ripresa sei fantastico grazie di tutto durva tavare da san paolo del brasile è un grande veramente adesso saluto massimo un amico una persona un uomo super speciale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa massimo con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche adesso saluto angela birba del fan club del veneto che sostengono mitico pietro galassi sul ballo liscio una voce melodica unica un artista fenomenale completo tutti voi del fan club del veneto con angela che mi segue in bici un grande grazie a tutti voi di esistere e a pietro lo saluto dalla liguria meravigliosa con tutta la sua l'orchestra numero uno con tutta la sua famiglia meravigliosa e grazie ancora pietro di esistere una voce melodica unica sul ballo liscio un artista fenomenale completo lo ridico di nuovo perché pietro è un grande è un uomo con grande cuore io lo posso dire e anche la mia moglie serenella ciao pietro un grande ciao angela per seguirmi tutti voi del fan club con le vostre famiglie meravigliose ancora un grande grazie di esistere adesso saluto mirca martini da monselice una donna un'amica super speciale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa mirca con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche adesso saluto daniele pavan un amico una persona un uomo super speciale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa daniele un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche adesso saluto ilaria scaffali una donna un'amica super speciale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa ilaria con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi adesso saluto renzo cantarello un amico una persona super speciale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa renzo con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi adesso saluto un amico super speciale numero uno con tutta la tua famiglia meravigliosa con tutto il mio cuore fabio un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche adesso saluto davide un amico una persona super speciale numero uno con tutto il mio cuore davide un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche adesso saluto filippo colinari un amico una persona super speciale numero uno con tutto il mio cuore con tutta la tua famiglia meravigliosa filippo un grande grazie di esistere di seguirmi adesso saluto filippo fans di Giuliano Calore, il mitico, il re del ciclismo estremo, dalle imprese impossibili, Filippo suo fans, io amico fans, collaboratore e interista come lui, ci guardiamo l'Inter assieme, grande Giuliano, unico nel mondo, vi cito un'impresa incredibile, la scalata dal passo dello Stelvio, da Prato dello Stelvio a Cima Cuppi, al passo 2760, con la gamba solo, senza il manubrio, pensate, un'ora e 36 minuti, impressionante, e quel giorno era sotto vento e pioggia, Ambrogio Foga lo presentò così, un padovano in bici, cletta, niente impossibile, Giulio, il grande Giuliano Calore, premiato a Berlino con la medaglia d'oro, il re del ciclismo estremo, 13 guine savorreco, il marziano, l'estaterestre, non so più cosa dirgli di aggettivo, saluto anche tutto l'inizio scientifico di Padova, del Fermi, che quel giorno, che siamo venuti con Giuliano, che ho messo il paletto a 35, avete visto cosa che fa, passati 80 anni, adesso ne ho 86, quando viene il 9 gennaio 2024, grande, grande, veramente, Giuliano è unico, irripetibile, adesso saluto, Maro, Tonio, Anna, Riccardo, tutti, Aless, il dottore Antonio da Scafati, siete in tantissimi, dimentico sempre qualcuno, ma tutti voi, super speciali numero uno, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere, saluto anche Vittorio Salvan, anche lui, tutti voi, grazie ancora di esistere, un grande bacio da terra dura, così vi ho salutato quasi tutti, e che mi sono dimenticato all'inizio, ho salutato tutti, grazie ancora di esistere a voi, ripartiamo, questa chiesa meravigliosa. . . . . . . Grazie a tutti. 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 Strada battaglia. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. in centro. Passiamo... alla chiesa. a tutti. 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 vedete. a tutti. 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 sotto. a tutti. vedete. siamo. e qui. siamo un grigine. a tutti. 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 bene. tutti. a tutti. a tutti. sotto. a tutti. a tutti. a tutti. 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 a tutti. tutti. a tutti. a tutti. su. a tutti. . a tutti. , a tutti. a tutti. a tutti. 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 a tutti. 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 a tutti. vedete. tutti. . 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 Natto detonante il nostro corso gratuito Grazie a tutti. Dai, dai, dai! Forza, dai, forza! Forza, dai, dai! Forza, dai, dai! Forza, dai, dai, dai! Forza, dai, dai, dai! Siamo arrivati alla sbara Sentite il treno? Siamo arrivati alla sbara Siamo arrivati alla sbara Siamo arrivati alla sbara La stazione è sempre di Monselice Siamo arrivati alla sbara 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 Sbara